amici di mitico channel un caro saluto da francesco da prato oggi mi risulta particolarmente difficile commentare una partita che è stata a mio avviso profondamente condizionata dagli episodi due su tutti il primo sicuramente il gol mancato da chi ricò dopo circa dieci minuti su una bellissima palla che gli aveva lanciato floriano il secondo il gol del novara che è nato sull'unica azione che il novara ha fatto nel primo tempo viziatissimo da un fallo molto evidente su fedato e poi concluso con un tiro che definire della domenica insomma è forse dire poco un tiro molto molto fortunato il foggia comunque era in qualche modo riuscito a rimetterla sui binari giusti la partita nonostante falcidiato dagli infortuni qui a quello di camporese dell'inizio della partita seguendo poi a quello di floriano e poi addirittura a quello di agnelli e con un rigore a mio avviso che c'era ma comunque tutto sommato che pochi arbitri avrebbero concesso il foggia riusciva poi a pareggiare la partita con mazzeo nel secondo tempo la partita seguiva il canovaccio del primo con il foggia sempre all'attacco e che poi riusciva con una intuizione di mazzeo che quest'oggi ha giocato più da diciamo rifinitore che da attaccante questo la dice lunga sulla questione attacco nel foggia di quest'anno dicevo mazzeo lancia una bellissima parla per fedato che ci crede complice un po una papera del portiere del novara del suo centrale riesce a portare il foggia in vantaggio per 2 a 1 e la seconda volta in due settimane che il foggia si trova a recuperare una partita anzi sarebbe la terza dall'1 a 0 sul 2 a 1 solo a carpi riesce a confermarla ma come a brescia anche quest'oggi purtroppo non riesce a portarla a casa e ancora una volta un ci punisce una punizione un calcio d'angolo del novara ancora una volta si lascia colpevolmente saltare uno dei difensori avversari e questo poi alla fine risulterà decisivo per le sorti della partita chiudo parlando del campionato questo campionato si dimostra ancora molto livellato come sempre stato non ci sono squadre che riescono ad emergere sulle altre sembrava il perugia inarrestabile abbiamo visto che poi è caduto a brescia come anche a palermo lo stesso palermo lo stesso frugginone che hanno un andamento più costante però non riescono a emergere in maniera preponderante sulle altre formazioni cosa potrà dire il foggia in questo campionato il foggia potrà dire tutto oggi per esempio era un bivio se avessimo vinto ci saremmo rilanciati in classifica ma di questi bivio ne incontreremo ancora altri per fortuna non sempre spero li mancheremo questo è un campionato dove tutti sappiamo che vincendo due o tre partite consecutive ci si può trovare facilmente nelle posizioni di vertice della classifica un piccolo accenno per concludere ai tifosi tifosi del foggia ancora oggi ma come a brescia carpi ma addirittura anche a da bellino hanno dimostrato di essere sicuramente i più calorosi più numerosi più festosi di questa serie b se vogliamo anche in maniera logica rivedendo il loro foggia per la prima volta dopo tantissimi anni ai massimi vertici della dei campionati calcistici italiani però forse se devo imputare qualcosa a questo pubblico è la troppa indulgenza verso la propria squadra se l'anno scorso era troppo severo fu severissimo dopo la sconfitta contro i fondi che il foggia non meritava assolutamente di subire adesso forse gli si perdona un po troppo il giusto incoraggiare la squadra come ha fatto quest'anno in tutte le partite la nostra tifoseria ma oggi per esempio qualche fischio in più forse i nostri calciatori lo avrebbero meritato non fosse altro per stimolarli ecco il foggia questa squadra ha bisogno di stimoli e credo che anche la contestazione una contestazione serena tranquilla per il risultato dei propri tifosi possa innescare quel qualcosa di positivo quella grinta quella cattiveria che a mio avviso in queste prime sette partite non ho ancora mai visto nei nostri calciatori io la vedo così approfitto per darvi un caro saluto vi aspetto al dopo empoli foggia tutti qui su mitico channel un caro saluto da francesco da prato grazie a tutti grazie a tutti